Stiamo cercando un po' di fare il punto della situazione attraverso, analizzando le conseguenze di questo lockdown, perché così va definito, seppure non come quello del marzo scorso, tra le varie attività commerciali di Taranto. Siamo nel quartiere Porta Napoli, a Taranto, presso Mr. Ghiaccio e siamo con Eliseo Leo, che ne è il titolare. L'azienda produce ghiaccio, come è facilmente intuibile dalla denominazione Mr. Ghiaccio, ma chiaramente nel momento in cui i bar procedono a ritmi ridotti, perché alle 18 scatta il coprifuoco, automaticamente le conseguenze ci sono anche per chi produce ghiaccio per i bar. Facciamo un po' il punto di questa situazione. Sì, bene, è esattamente quello che dicevi tu prima. Ovviamente è un'azienda che basa il proprio business sul ghiaccio, ovviamente, perché siamo un'azienda di produzione di ghiaccio alimentare per i bar. Ovviamente, avendo ridotto i bar, gli orari di lavoro, quindi si è ridotto la loro fascia di lavoro, di conseguenza si è ridotto anche per noi l'attività. Che non è un bel momento, ovviamente, è un momento molto difficile. Da una settimana è completamente fermo per noi il mercato, cioè zero. Ovvio che andare avanti di questi ritmi, cioè lentissimi, diventa una cosa estremamente impegnativa per un imprenditore. Insomma, voglio dire, è facilmente intuibile la difficoltà che si sta vivendo, è facilmente intuibile la difficoltà anche con i nostri collaboratori. Ovviamente ci vedono in un momento, come dire, di fermo totale nell'attività e iniziano anche loro a chiedersi che sarà mai, insomma, di un'attività che è impostata fondamentalmente per il mondo dei bar, ristorazione, hotel e catering. Un sistema, ovviamente, è un ingranaggio nel momento in cui si ferma una rondella di questo ingranaggio, ecco che si ferma un po' tutto l'orologio, dal bar a voi che producete ghiaccio alimentare, ma poi le conseguenze ci sono anche per i dipendenti, per i vostri dipendenti. I dipendenti hanno famiglie e nelle famiglie ci sono i bambini. Come vedete si viene a creare un circolo non virtuoso ma vizioso in questo caso. Sì, in effetti, si viene a creare un circolo vizioso che, quello come spiegavo prima ovviamente, in questo ultimo periodo i collaboratori che abbiamo, insomma, iniziano a chiedersi che sarà mai del nostro futuro, cioè cosa ci aspetterà domani. Anche perché viviamo di incertezza continua da parte di questo governo, insomma, non è un governo stabile, ma non solo. Non danno risposte, o meglio, le risposte che ci danno ce le danno a, come dire... Colpi di decreti mandati in onda in tv. Eh sì, è un continuo, è un susseguirsi di decreti che ovviamente ha stretto giro a un mese, venti giorni e poi può cambiare di nuovo la storia. Grande punto interrogativo per il futuro. E qui incombe questa data che ci fa paura, si vocifera che se i ritmi, gli indici, l'indice di contagio dovesse andare oltre, si potrebbe arrivare al 9 dicembre a un lockdown totale. Ci auguriamo seriamente che non sia così, perché davvero poi la situazione diventa drammatica, drammatica. Ovviamente non vogliamo che si replichi la cosa, insomma, che sia una fotocopia di quello che abbiamo già vissuto a marzo, che è stata una grande batosta per noi imprese, insomma, metterci completamente a zero nel lavoro non è stato facile. È stato così tanto poi difficile l'estate, questa in corso, dover riprendere i mesi passati che abbiamo perso, fatturato, le spese continuano ad esserci. Ovviamente i dipendenti erano comunque al servizio dell'azienda, ma è stato veramente difficile. Ci auguriamo di no questo, ovviamente. Oltretutto se malauguratamente l'indice dovesse salire, ciò significa che queste misure che sono state prese, queste chiusure parziali di bar, ristoranti e quant'altro, non avevano senso, perché a mio modesto avviso il vero problema sono i trasporti, sono le scuole. Quindi se andando a dare questa medicina, cioè chiusura alle 18, la medicina non produce alcun effetto, evidentemente non era quello il male, ma bisognava trovare cause e ragioni che stavano a monte. Il governo e la regione da maggio a un mese fa avrebbero avuto tutto il tempo per studiare piani alternativi, perché si sapeva che, bene o male, la seconda ondata sarebbe arrivata. Allora hai avuto tutto il tempo di studiare come organizzarti a livello sanitario, a livello di trasporti, a livello di scuola, a livello di attività commerciali. Ciò non è stato fatto. In estate si era felice e contenti, si diceva venite in Puglia e ora si aprivano le discoteche e ora, come dire, il coccodrillo versa lacrime amare. Eh sì, hanno semplicemente rimandato il problema, insomma, quello che si poteva studiare a tavolino, fatto bene qualche mese fa, programmato e hanno semplicemente rinviato la cosa, tamponato, qualche giorno fa. Cosa che non vedo giusto, voglio dire, chiudere un bar, un'attività del mondo della ristorazione alle 18, vorrei solo capire cosa cambia da, voglio dire, vuol dire che il virus è in circolazione, in giro, dorme fino alle 18, si sveglia, quindi questa è la cosa più tragica. Come le palestre, il Covid evidentemente ama le palestre ma non il campionato di calcio, in Serie A. Certamente che sì, anche perché aggiungo un'altra cosa, i ristoratori, gran parte dei ristoratori, non soltanto nel nostro territorio ma in tutto il territorio nazionale, si sono organizzati per i mesi precedenti, mesi scorsi, ad avere distanziamento tra i tavoli, clienti e via discorrendo. Ora, detto questo, cosa cambia se chiudiamo alle 18? Se le distanze si potevano comunque tenere prima, adesso non è più possibile. Cioè, sta di fatto che mi fanno capire che il problema sussiste soltanto dopo le 18, quindi, cioè, è una cosa non chiara per me, non chiara. Ecco, in questo, in tutta questa situazione di confusione, e anche di, così l'imprenditore si trova in una situazione in cui naviga a vista, voi fate parte di un'organizzazione di categoria che è appunto Confartigianato Taranto, quindi una realtà organizzativa di categoria che in molte situazioni vi ha guidato, vi ha seguito. Sì, si è schierato ovviamente dalla nostra parte perché hanno, come dire, ben capito quello che è il problema. Insomma, noi siamo dei semplici burrattini fondamentalmente nelle mani di questo governo. Disfano e ridisfano le cose, insomma, al loro piacimento. Fortunatamente ci sono associazioni di categoria che, se non altro, tutelano o ci informano o abbiamo dei confronti con loro. Quindi questo va detto. Fortunatamente abbiamo un'associazione di categoria che, se non altro, il confronto ce l'hanno con noi operatori, ci assistono, sussistono, a volte anche psicologicamente, chiaramente, che non è facile in questo momento. Anche perché ci sono delle incombenze burocratiche talvolta complesse, degli adempimenti complessi, faraginosi, che quindi in questo caso l'organizzazione di categoria a cui fate parte, Confartigianato Taranto, ha cercato di, come dire, semplificare. Certamente che sì, ha cercato di semplificare, venendoci incontro, appunto, come dicevo prima, con degli incontri anche con gli uffici di competenza, insomma, hanno dato un supporto agli imprenditori, tenendo presente che noi siamo una piccola impresa, ma come me ce ne sono tantissime altre, che sono quelle che reggono il tessuto economico di questa nostra realtà tarantina. che, voglio dire, è già tanto che c'è un'associazione che riesce, se non altro, ad accompagnarci in questa vicenda. Materialmente e moralmente. Materialmente e moralmente, ovviamente. Anche psicologicamente. Anche lo scambio di una telefonata con la Presidenza, insomma, è un modo per interagire, per sentire chi aria tira, insomma, anche per darci un po' di tranquillità psicologica e che noi, a nostra volta, possiamo trasmettere ai nostri collaboratori.